benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video è un tag che si chiama halloween tag e sono stata attaccata da lady vampira ciao tesoro un bacio grande grazie per avermi taggata sono 25 domande cento ria 24 perché la venticinquesima dice tag cominciamo subito allora prima domanda hai mai giocato con una tavola ouija no però mi piacerebbe farlo però non lo farò mai perché comunque un bambino quindi non voglio rischiare però sono me sarebbe piaciuto l'avrei fatto molto molto volentieri perché queste cose qua mi piacciono veramente tantissimo fantasmi demoni angeli paradiso inferno insomma mezzano tutte due cose che mi facciano molto come i fantasmi alieni insomma al sapete ormai mi piace tutte queste cose qui paranormale e però vi ripeto perché c'è un bambino non lo faccio perché non sono stupida e succede qualcosa dato che ci credo quindi niente non l'ho fatta mai non la farò mai seconda domanda qual è il tuo cattivo preferito di libri allora io non non leggo libri leggevo una volta quando ero un po più piccola adesso ormai ho lasciato perdere anche se mi piace molto molto leggere però non non ce l'ho quindi terza domanda qual è il tuo cattivo preferito di film allora il mio cattivo preferito di film è lui come si chiama pensato poi nemmeno ricordo come si chiama praticamente quello lì che te col filmoro che ti si dormi che sogni che c'è lui che te mazza tipo che c'ha quei guanti diciamo come coltelli no che te mazza freddy krueger mi pare freddy grueger non ricordo come si chiama comunque lui se avete capito spero quindi sotto nei commenti ditemi se avete capito quale cattivo vi ho accennato se l'avete capito quarta domanda la cosa più paurosa che ti è successa quando eri a casa da solo ma allora a casa solo se ci sono stata rare volte pochissime volte ma non è successo niente però vi dico questa anche se non era a casa da solo che è praticamente successo due annetti fa d'estate praticamente avevamo sentito insomma sentivamo l'ascensore con il palazzo andassù andaggiù le luci accese e si sentiva un po' dei passi fuori dalla porta che io il normale ho la porta blindata e praticamente io con coraggio mi sono affacciata all'occhetto cioè all'occhiello scusate per vedere che c'era c'era un signore che all'inizio stava dritto ti guardava davanti all'occhiello vi giuro c'era questo signore che stava così poi ho lasciato perdere non ci sono rimessa stava per così poi dopo stava seguendo i quanti scalini perché c'ho la porta blindata esce fuori a destra c'è sei scalini che va su al terzo piano sul secondo poi un'altra volta visto che si era affacciato di sotto tipo il balconcino che sotto si vede il primo piano e visto che andava giù ma per me cercava qualcuno però sai all'inizio che te si mette così te si mette così ha preso un colpo e quindi più paurosa insomma è stata una cosa comunque da mezzo un po d'ansia dice ma che cazzo è questo però ecco ripeto non era a casa da solo mi è successa questa piccola cosa ma niente di che insomma quinta domanda passeresti la notte in una casa infestata per 100 mila euro sì non c'è nessunissimo problema dato che mi piace queste cose e non so se l'avete visto mai sulla televisione che c'erano tipo questi ghostbusters che vanno in telecase infestate in dei manicomi di notte che vanno a mettere tutte le telecamere se sente la tocca o se trovano dei graffi è una cosa che mi piace molto non dico che non ho paura perché perché altro paura è ansia è adrenalina pura e mi piacerebbe viverla un'adrenalina di questo tipo poi cazzo per la notte non dormo non me ne frega starò sempre sveglia ma dopo almeno c'ho 100 mila euro in tasca lo farò molto volentieri sesta domanda c'è la passerei volentieri la notte la sesta domanda se è superstizioso si dipende per esempio quando dicono del gatto nero che te passa quando te cammini con la macchina che ti passa davanti per me quella è una cazzata cioè nel senso non ci credo proprio anzi mi hanno passato 100 mila dei gatti neri davanti grigi o azzurri pure per cui vabbè dice più che altro il gatto nero no ma sinceramente non mi è successo mai niente quindi no però del tipo che lo specchio che si rompe c'è i settani le sfiga oppure il sale se te casca per terra dove vi prende delle spalle insomma con le robe lì sì dopo dipende anche quali superstiziosi sono proprio così proprio la del dato proprio no ma anche no comunque si sono superstizione settima domanda preferisci thriller horror no preferisco più horror ottava domanda credi nell'esistenza dei mondi paralleli sì come già ho detto prima credo tutti i fantasmi insomma tutte storie così quindi anche nei mondi paralleli sì nonna domanda hai mai fatto la pozione no se forse le pozioni funzionerebbero veramente forse sì decima domanda ti ti ama scusate non ho letto bene ti spaventi facilmente dipende che spavento uno mi fa se no no dipende undicesima domanda sei a casa da sola e senti dei passi o dei rumori cosa fai oddio non lo so sinceramente c'è dovrei stare proprio lì per dopo un giorno dopo per farvi dire cosa come ho reagito io è comunque penso andrei controllare però non faccio come nel film che dice chi è chi va là grazie a cazzo che dici chi è chi va là infatti ti risponde se è un manioco un'assassino sta roba è così voglio dire che te va rispondere che scemo o scema voglio di proprio piano gattaiolando diciamo vado a curiosare insomma vedere chi è che fa questi rumori dodicesima domanda se fossi intrappolato in un film dell'orrore quale sarebbe sarebbe quello che ho detto prima pare freddy google si chiama quello che ho detto che quando voi venite a dormire che faceva di questi ragazzi te film poraci c'era il sonno della madonna non potevano dormire perché sapevano che entrando nel sogno c'era lui che ti ammazzà e praticamente devi trovare un qualcosa per svegliarti tipo sotto un paletto che ne so quelli che scottano e tipo dove c'è il fuoco che cazzo ne so non lo so insomma vai lì col braccio tipo fai così no e te svegli tra la bruciatura infatti dopo quando si risvegliava c'aveva questa qui la bruciatura che ho visto in stessa scena questo paletto che era che scottava attaccato ha toccato il paletto infatti c'è avuto una bruciatura no quando si è svegliata poi quindi in quel film lì sì perché lui ci è innamorata proprio di lui c'era proprio un cifre di lanceria non so perché anche se uno dice ma è brutto come fai non so mi piace un po' lui mi gusta mi gusta quel paletto anzi andrea ora insieme a lui vabbè scherzo dai allora tredicesima domanda se potessi indossare un solo costume di Halloween per tutta la vita quale sarebbe ma sinceramente niente anche perché allora io adesso questo tag lo faccio che comunque Halloween tag è una cosa simpatica poi se domande neanche parla proprio di Halloween proprio Halloween in generale di robe di paura fantasmi cazzi ammazzi e però Halloween sinceramente non mi piace cioè noi a casa non abbiamo mai festeggiato a mettere candeline zucche cazzi ammazzi tutte queste robe così e quindi noi che lo festeggiamo tanto non mi piace più di tanto quindi nessun costume insomma quattordicesima domanda andresti in un cemitero di notte ma sì di giorno o di notte buio pezzo non succede male anzi è meglio stare nel tuo cemitero e sta più tranquillo lì che mezza le persone vive guarda quindicesima domanda se ci fosse un apocalisse di zombie quale arma sceglieresti per difenderti? un bazooka prenderò un bazooka dai sedicesima domanda sei in un film horror chi sei? la ragazza che muore subito il personaggio che alla fine sopravvive il burlone lo scettico quello intelligente o il serial killer? la ragazza che muore subito no cioè lui ma anche no il personaggio che alla fine allora perché qui dopo c'è il burlone lo scettico no tra il personaggio che alla fine sopravvive e anche l'intelligente no? o il serial killer siccome scelgo sempre di solito questi personaggi questa volta scelgo il serial killer dato che in vita le persone che ha fatto del male o te odono e tutto non è poi ammazzata perché c'era in galera almeno le ammazzo un film anche per finta va bene no no scelgo il serial killer comunque per una volta faccio il serial killer dicesettesima domanda quando guardi un film horror sei quello che urla consigli ai personaggi quello che tiene gli occhi coperti per tutto il tempo o quello che si addormenta? allora oltre che tengo gli occhi aperti per tutto il tempo perché sono inutili che guardo un film horror poi guardo io che chiusi ogni tanto faccio così in te le scene un po' forti però se no lo guardo sempre e però la maggior parte sono quello non è che urlo ci do i consigli ma anche raramente non sempre quando ci voglia per esempio in questa qui senti rumori non so di sopra e dico no non c'è andata non c'è andata non c'è andata tipo sta roba così no che poi sono stupida perché dai consigli e pare che non c'è non te sentono loro gli urli consigli ma non te sento però cerchi di con ipnosi può essere no vabbè comunque questi due sia che tengo io che particolarmente un po' anche che ogni tanto do qualche consiglio ai personaggi diciottesima domanda se quello che spaventa o quello che si fa spaventare allora io so difficile da farmi spaventare poi ripeto anche con la domanda precedente ed è prima dipende che uno che spavento mi provoca mi fa però io c'ho quella che spaventa sono molto brulona non pare ma mi piace diciannovesima domanda il tuo film horror preferito ed il tuo libro allora il libro lo scarto perché non ce l'ho e il mio film horror preferito ve l'ho detto oltre a quello di the freddy kruger spero che si conoscia così che è lui quello che vabbè questo come si chiama e altri film horror preferiti vi parlo in generale mi piace un po' tipo adesso the conjuring che è uscito quello nuovo tutta roba di sempre paranormale le dea ma li strovo così che i film piacciono veramente tanto anche ventesima domanda quanti anni avevi quando hai visto il tuo primo film dell'orrore è una miseria buh non ricordo ragazzi né quanti anni avevo né che film avevo visto prima il primo film horror non me lo ricordo ventunesima domanda cosa farai questo halloween allora come vi ho detto già la domanda precedente mi ha le un nuovo festeggiamo non mi piace c'è da proprio mio figlio che faccio non faccio festeggiare e quindi vado con lui in casa per casa qui nel palazzo mio nei palazzi intorni come abbiamo fatto l'anno scorso e poi l'ho anche truccato scusate l'ho anche truccato che ho fatto una bocca qua gigante coi denti era venuto carinissimo pegliano quel po' e stanno pure lo truccherò da un'altra cosa vediamo dopo c'era lui quello che preferisce un personaggio horror che fa paura e si andiamo a casa per casa che l'anno scorso abbiamo c'ho una ciotola gialla io tutti i dolci ma pieno tra caramelle dolci in casa in deroga abbiamo preso e perché la gente comunque sa lo procurano e queste cose che poi le passano i bambini e quindi si lo riporterò a fare i giri per le case insomma rompe le scatole le persone a fare dolcetto scherzetto 22esima domanda se potessi avere un cucciolo alloviniano quale sceglieresti tra gatto nero pipistrello topo gufo o lupo e lupo se ora sapete sono animalista quindi se fosse per me sceglierei tutti però il mio preferito è lupo sapete quindi scelgo il lupo anche il pipistrello non è male figo 23esima domanda qual è il tuo simbolo alloviniano preferito vi ripeto non c'ho tante robe che mi piace di allo insomma però lo so è insomma dico la zucca è scontata lo so però c'è solo quella che mi piace cioè come zucca perché figa e carina c'è coi triangolini dentini è una roba carina quindi mi piace o anche delle decorazioni forse con i copistrelli fantasmini storie così proprio che scuola l'altro ventiquattresima domanda e l'ultima una serie tv da guardare durante halloween ma non lo so e sinceramente durante halloween è che guardo serie tv cazzi e mazzi quindi non vi dico niente mi dice così domanda dice tag allora io taggo a tutti che qui ne è che c'è scritto tag a tre persone quindi io taggo a tutti voi in generale tutti i miei iscritti e non e quindi siete tutti rigorissimi di fare questo tag niente io sotto all'infoboss come sempre vi metterò le domande di questo tag e niente spero che questo tag vi sia piaciuto sia stato così spolliciate in su questo video se volete sotto al video mi commentate e se avete qualche risposta uguale alla mia di queste domande che ho fatto e niente io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao